nomine transitorie per aggirare la scadenza dello spoil system ma i veri cambi verranno fatti dopo le elezioni con questa premessa il presidente della regione nell'omu sumeci ha di fatto nominato i componenti del suo ufficio di gabinetto al comando delle società partecipate di palazzo d'orlean alcuni dei quali quasi sicuramente rimarranno anche dopo le politiche di marzo così dunque a prendere il posto del magistrato antonio ingroia per sicilia digitale la società nata da sicilia e servizi che si occupa della gestione dei servizi informatici della regione sarà l'ingegnere informatico dario corona guida dell'irfis sarà giacomo gargano capo della segreteria tecnica e docente all'università core di enna